Buonasera a tutte e a tutti, caro Alberto Casadei, gentile Cristina Ott, gentili ospiti del Goethehaus, caro pubblico in sala, caro pubblico virtuale, liebes virtuelles pubblicum, è anche possibile una simultanea übersetzung di nostre treffi. Proseguo in italiano e ho l'onore e il piacere, quale direttrice dell'Istituto Italiano di Berlino, di proseguire il programma di autrici e autori italiani invitati alla Frankfurter Buchmesse 2021. Dopo aver compreso ieri con Guido Barbujani come è stato costruito e inventato il concetto di razza, oggi risaliamo indietro alle origini della cultura italiana. Nel grande anno delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante non poteva mancare a Francoforte il nostro sommo poeta. E non poteva mancare in questo magnifico complesso, questo è l'Arcadensaal, che oltre alla casa di Natale di Goethe comprende il Deutsches Freies Hochstift e il nuovissimo Deutsches Romantik Museum, inaugurato giusto il mese scorso. Lo sottolineo perché sono stati i propri romantici tedeschi a riscoprire fuori dall'Italia, nel primo ottocento, la grandezza universale di Dante e a riconoscere in lui addirittura il padre fondatore di tutta la poesia moderna. A tenere per noi questa sera una lezione magistrale su Dante abbiamo invitato, mi sposto un po' in avanti, Alberto Casadei, ovvero uno dei più apprezzati dantisti in Italia e all'estero. Alberto Casadei si è laureato e specializzato in letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore dell'Università di Pisa, dove attualmente insegna. Ha pubblicato numerosi studi, tra cui ricordo Stile e Tradizione nel Romanzo Italiano Contemporaneo e molti studi appunto su Dante. Dante oltre la Commedia nel 2013, Dante altri accettamenti e punti critici nel 2019, Dante storia avventurosa della Divina Commedia, dalla selva oscura alla realtà aumentata nel 2020. avrò dimenticato qualcosa di sicuro, di importante, ma lui ci correggerà. Prima di ascoltarlo però, vorrei dare la parola a una italianista tedesca nella casa di Goethe dei Romantici, cioè la professoressa Cristina Ott, che insegna letteratura italiana alla Goethe Universität di Francoforte. Prego. Gentile Pubblico, gentile professoressa Foy e dottoressa Labberti, caro Alberto, sehr geehrte Damen e Herren, er ist gut gemacht, es ist ein schöner Kopf, aber er ist doch nicht ganz erfreulich. Er ist schon alt, gebeugt, verdrießlich, die Züge schlaff und herabgezogen, als wenn er eben aus der Hölle käme. Ich konnte es mir nicht verkneifen, dato il luogo in cui ci troviamo, non potevo non citare il severo giudizio di Goethe su Dante, una bella testa, da intendere sia in senso letterale che metaforico, ein schöner Kopf, ma non del tutto piacente. Nel busto di Dante, che contempla insieme a Eckermann, Goethe vede un uomo già anziano, dai tratti provati, come se fosse appena tornato dall'inferno, als wenn er eben aus der Hölle käme. Questa voce critica non deve trarci in inganno, anche se Goethe non fu certo tra i più ardenti ammiratori della commedia, ne apprezzò il realismo, quello che lui chiamò realismo di Dante, e ne tradusse anche alcuni versi. Inoltre, nel momento in cui Goethe pronuncia queste parole, l'ammirazione per Dante in Germania sta già emergendo, come ha ricordato giustamente la professoressa Foy, già Schlegel e Schelling, i romantici, intorno al 1800 celebrano Dante come fondatore appunto della poesia moderna. In questo momento esiste già la prima traduzione integrale della commedia, quella di Leberecht Bachenschwanz, pubblicata nel 1767. Ne seguiranno altre, quella di Ludwig Kanegis, quella di Philaletes. Fino ai nostri giorni sono almeno 52 le traduzioni integrali della commedia pubblicate nell'area germanofona, e ve ne sono almeno altre quattro che tuttora stanno aspettando una pubblicazione, fra l'altro una nata proprio qua, vicino a Francoforte. Il culto di Dante in Germania, insomma, ha una lunga tradizione, e come membro della Deutsche Dante Gesellschaft ci tengo a ricordare che questa società, fondata nel 1865 a Dresda, sotto la guida di Karl Witte, anche lui un importante studioso di Dante, è la più antica tra tutte le società dantesche nel mondo. Dopo queste premesse, si potrebbe pensare che allora, se Dante, grazie a tutto questo lavoro di traduzione, di mediazione, è come a casa sua, in Germania, a Francoforte, forse non c'è più nulla da dire su di lui. Ovviamente non è così. Si potrebbe invece addirittura sostenere che Dante, nonostante sia l'unico autore, almeno per quello che so della letteratura mondiale, a essere diventato non solo personaggio di numerosi film e fumetti, ma addirittura di un videogioco, questo non ce l'ha fatta Shakespeare, non ce l'ha fatta Goethe, che Dante sia una sorta di grande sconosciuto. Chi, infatti, in Germania conosce i versi di Dante? È proprio per ovviare a questa lacuna che è appena uscito un volume dal titolo Dante's Verse, edito da Bieter Förster, in cui vengono commentate famose terzine tratte dalle tre cantiche della commedia. Fra l'altro questi articoli che commentavano queste terzine sono prima usciti nella Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dunque, anche se possiamo aspettarci che in Germania e nel mondo il nome Dante dica qualcosa, non è affatto inutile tornare a leggere e a meditare i suoi versi, le sue opere e anche le circostanze in cui queste opere furono scritte e pensate. Di questo ci parlerà tra poco Alberto Casadei, grande specialista di questioni filologiche intorno a Dante, grande conoscitori dei misteri della Divina Commedia. Nemmeno inutile però chiedersi come mai proprio Dante sia diventato eroe di un videogioco, come mai proprio Dante sia dedicato uno stupefacente palazzo di 22 piani a Buenos Aires, era stato pensato come tomba di Dante, come mai sia proprio la commedia il testo che ha parlato alle vittime internate nei lager nazisti, ma anche il testo che ha parlato un autore postcoloniale, quale Derek Walcott, oppure per tornare in Germania, un testo che ha ispirato Peter Weiss, che ha ispirato la scrittrice Sibylle Leveciarov, che nel 2016 ha pubblicato un romanzo ispirato alla commedia intitolato Das Fingstwunde, il miracolo di Pentecoste, o anche un poeta che continua a ispirare Duas Grünbein, uno dei maggiori poeti di lingua tedesca di oggi. È questo Dante, a mio avviso, che ci deve interessare oggi. Non un Dante da imbalsamare, da mettere su un piedestallo o su una bandiera, ma un Dante scomodo, spigoloso, scandaloso, le cui visioni politiche e religiose devono essere oggi rilette con uno sguardo critico. Un Dante le cui opere non suscitino soltanto appagata ammirazione, ma più domande che risposte. Perché se le domande stanno dentro all'opera di Dante e Alberto Casadei può sicuramente conformare che nel corso dei secoli le domande tendono più a moltiplicarsi che non a risolversi, le risposte a quello che Dante suscita, stimola, irrita in noi, alla fine le dobbiamo dare noi, noi in quanto cittadini d'Europa e abitanti del mondo. Seguite damen und herren, caro pubblico, anche il nome della Goethe-Universität Frankfurt e della Deutsche Dante Gesellschaft sono molto felice di darvi il benvenuto a questa serata dedicata a Dante. Ringrazio Cristina Ott per questa sua carrellata fino al contemporaneo su Dante e addirittura in Brasile e ricordo che il nostro programma nasce in stretta collaborazione con l'Istituto Italiano di Colonia e quindi ringrazio anche Iolanda Lamberti. Vi ricordo anche che la traduzione simultanea si deve a Marina Grones e a Ioannes Hamp. Le ringrazio in anticipo e darei ora a fine della parola a Alberto Casadei che ci svelerà i misteri della Divina Commedia. Grazie. 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 Non vi da questo. Grazie, buonasera a tutte e tutti e complimenti per questa bellissima iniziativa, complimenti agli Istituti Italiani di Cultura di Berlino, di Colonia e a tutti quelli che hanno realizzato questo bell'incontro dantesco e grazie a Cristina Eott, cara amica e ottima collega, per la sua bellissima introduzione. Infatti, ecco, è bello sentire vicini Goethe e Dante, due grandissimi e assolutamente fondamentali autori non solo di letteratura ma di visioni del mondo, il Faust come la Divina Commedia. E' questa veramente la prova che esiste una Weltliteratur, che esiste una possibilità di attraversare i tempi e gli spazi attraverso alcune grandi visioni e penetrare in queste opere. Si diceva quanti conoscono Dante o quanti in Italia conoscono Goethe davvero, ma potremmo dire di Shakespeare, di Cervantes, di Omero, di Trostoi. Ecco, è però invece fondamentale per riuscire a far crescere in generale la nostra idea di umanità. E questo incontro che sarà necessariamente breve e che penso per i non specialisti, per tutti quelli che vogliono affrontare qualche aspetto della Divina Commedia senza essere studiosi, vorrebbe prima di tutto far vedere quanto un testo concluso 700 anni fa, perché Dante terminò la Divina Commedia a pochi mesi dalla morte e di questo siamo ormai certi, ancora ci dice tantissimo perché ancora deve essere indagato, deve essere in qualche modo interpretato fino in fondo. Non perché ci siano misteri in senso esoterico, nell'Ottocento furono tanti quelli che videro nella Divina Commedia misteri appunto di questo tipo e tuttora ci sono tanti tentativi di interpretare i codici segreti anche in romanzi recenti del capolavoro di Dante. Ma in realtà io parlo dei misteri di come leggere questo testo, di come sentirlo vicino andando oltre questi secoli che ci separano non perché la storia non sia importante ma perché dobbiamo cercare di capire quanto di questa storia lontana giunge vicino a noi perché c'è un filo comune, perché c'è una arte che attraversa appunto i tempi e gli spazi e supera anche le epoche storiche, quella dei classici e quella delle grandi opere dei capolavori è quella di Dante e di Goethe. Allora, i misteri della divina commedia. Beh, innanzitutto un mistero è già perché si chiama così. Molti sanno che divina è un aggettivo che è stato proposto da Boccaccio come aggiunta al solo commedia o comedia come vedremo fra un attimo e poi dal Cinquecento fu inserito nel titolo ma non è un titolo d'autore in questo caso sicuramente Dante non ha mai usato questa espressione. Ne ha usata un'altra che qui riportiamo in un canto il sedicesimo dell'Inferno che pone il problema di che cosa credere del testo di Dante. Credere in una visione ultraterrena addirittura in un viaggio in carne e ossa da parte di un uomo è ovviamente una cosa molto difficile anche per un lettore del Trecento e Dante molte volte si rivolge al suo lettore e gli chiede di sospendere l'incredulità come diremmo adesso la suspension of disbelief si può credere si deve credere anche quello che come vedete ha faccia di menzogna sembra una menzogna e appunto Dante giura sulla sua comedia che appunto anche l'apparizione che sta per giungere quella di un mostro incredibile è invece da credere veramente. Allora questa è la prima apparizione e sembrerebbe che Dante si riferisca alla sua opera con il termine comedia di questa comedia lettore ti giuro inferno 16128 è la prima attestazione di un termine che non era usato in volgare era ovviamente usato in riferimento alla letteratura latina alle commedie di Terenzio per esempio ma non a un testo come quello in volgare di Dante il personaggio a cui si fa riferimento è questo qui troverete ogni tanto qualche immagine sempre ovviamente secondo i canoni del copyright questo è Doré e noi sappiamo che ormai queste immagini hanno segnato la nostra idea anche della Divina Commedia ma come vedremo andando avanti ce ne sono tante di tanti altri tipi e questo ci deve far capire che anche le immagini cambiano nel tempo e ci fanno cambiare la nostra prospettiva perché in effetti se vediamo poco più avanti Dante ribadisce il termine comedia vedete così di ponte in ponte altro parlando che la mia comedia cantar non cure stiamo entrando in canti di cui anche domani avremo occasione di parlare con cari amici come Edoardo Albinati e Giuseppe Lupo i canti dei barattieri i canti di coloro che hanno truffato e ricevuto denaro in maniera impropria e quindi siamo entrati ormai nelle malebolge queste parti infernali piene di basso comico di realtà molto bassa e assolutamente non elevata appunto questo termine come dia qui ribadito viene però ed è questo il punto importante subito dopo che Dante ha fatto dire a Virgilio il suo Virgilio il personaggio che lo accompagna nel viaggio fino all'Eden alla fine del canto ventesimo quindi proprio vicino al passo che abbiamo letto prima appunto Virgilio dice l'alta mia tragedia in alcun loco un personaggio di nome Euripilo viene ricordato e così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco ben lo sai tu che la sai tutta quanta quindi in riferimento a Dante che conosce tutta l'opera di Virgilio ma l'opera di Virgilio e Dante lo sa benissimo non si intitola tragedia si intitola e per esempio lo ripete Dante anche in un canto del purgatorio Eneida o Eneide quindi quando usa tragedia sta dicendo opera scritta in stile comico quando usa comedia sta dicendo opera scritta in scusate opera scritta in stile tragico quando usa comedia opera scritta in stile comico non sta dando un titolo è come se un romanziere di oggi dicesse in questo mio romanzo ma non è un titolo e questo ci viene confermato anche dal fatto che i titoli normalmente non si davano in un punto casuale o si davano all'inizio di un'opera o si davano alla fine oppure come fece lo stesso Virgilio venivano lasciati ai lettori Eneide non è un titolo dato da Virgilio la sua opera viene dato dalla tradizione allora ecco appunto Dante e Virgilio che si accompagnano e vedete che anche qui siamo sorpresi di solito immaginiamo Dante sempre vestito di rosso ma in questo caso lui è vestito di blu e invece di rosso in questa bellissima miniatura del Quattrocento di un codice ora diviso fra Parigi e Imola è Virgilio allora il punto è che Dante può riferirsi alla sua opera con il termine comedia in rapporto alla materia che sta trattando nell'inferno ma non è detto che voglia continuare a usarlo per il resto dell'opera perché ripetutamente come in questo caso nel canto nono del Purgatorio innalza la sua materia e sottolinea che la materia che sta trattando si è elevata vedete lettor tu vedi ben come io innalzo la mia materia e però con più arte non ti maravigliarsi o la rincalzo quindi lo stile deve seguire la materia secondo i canoni medievali della convenienza e andando avanti nel Paradiso addirittura invoca Apollo quindi siamo nell'ambito più elevato della tradizione retorica e ancora una volta appunto lo stile si è adeguato si è innalzato rispetto alla materia ecco perché nel Paradiso Dante non userà più il termine comedia per riferirsi alla sua opera ma userà il termine poema sacro o sacrato poema e lo fa ancora una volta riflettendo su quello che ha scritto in un passo famosissimo all'inizio del canto venticinquesimo e ancora una volta vorrà dare una definizione che però non è un titolo poema sacro non è ancora una volta il titolo dell'opera ma è una definizione che comprende il comico precedente la comedia è parte del poema sacro è di lì che è partito tutto dal basso inferno e da questa condizione basso comica ma quando arriva al Paradiso questa condizione è superata è compresa nel poema sacro quindi questa definizione opera degna di riverenza perché tratta di cose elevate e addirittura alla fine della visione di Dio è adatta a tutta l'opera mentre il comico è soltanto una sua parte fra l'altro qui Dante riflette su questo proprio perché vorrà avere l'alloro poetico uno dei grandi temi che in quel momento cominciava a essere discusso e poi sarà ripreso soprattutto da Petrarca è quello dell'incoronazione dei grandi autori di letteratura Dante aspira a questo quando dice in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello il cappello è appunto prima di tutto l'alloro poetico che per lui voleva anche dire il rientro nella sua città a Firenze la grandezza della sua poesia doveva garantirgli il rientro dall'esilio e qui vediamo appunto come si poteva rappresentare in una magnifica visione di Botticelli il paradiso ma il paradiso è forse ancora più complesso di questa visione di anime in forma di luce è un luogo astratto è un luogo addirittura che supera lo spazio e il tempo questa complessità assoluta Dante sapeva bene che passava attraverso il suo stile che non era più il comico dell'inferno in realtà i lettori antichi avevano allora dei dubbi per esempio qui vedete cosa pensava Boccaccio che come molti sanno era uno dei primi studiosi e amanti di Dante ha cominciato a raccogliere tanti documenti ha scritto delle biografie e ha cercato di commentare addirittura tutta l'opera si è fermato in realtà al canto diciassettesimo dell'inferno e poco dopo purtroppo è scomparso però in queste sue esposizioni anche Boccaccio come vedete si interrogava sul termine comedie comedia dice è il nome che normalmente viene dato a questo libro cioè a tutta l'opera che chiamiamo appunto divina commedia ma non sembra adatto non sembra convenirsi a questo libro però dice Boccaccio è stato nella mente dell'autore è l'autore stesso che l'ha chiamato così e cita proprio il passo vedete del canto ventunesimo dell'inferno così di ponte in ponte eccetera che però abbiamo visto che invece dà solo una definizione di genere stile ma non un titolo coloro che conoscono bene Dante potrebbero dire sì ma c'è una famosa epistola l'epistola al signore di Verona can grande della scala che invece se scritta da Dante garantirebbe che il titolo è questo e infatti come vedete in latino Dante scriverebbe al suo protettore che il titolo è commedia perché la commedia inquat asperitate ma di cui userei sedei us materia prospere terminatur quindi sostanzialmente comincia male ma finisce bene questa definizione banalissima ovviamente Dante la poteva trovare in tanti repertori nelle enciclopedie dell'epoca e in effetti è una definizione che non ci soddisfa affatto anche perché sarebbe in contraddizione con la definizione della Eneide come tragedia o tragedia perché per Dante l'Eneide era un'opera che finiva benissimo vinceva Enea che poi dava origine all'impero romano quindi questa definizione per esempio non andrebbe bene con due quei due passi dell'inferno che abbiamo letto prima il fatto è che probabilmente questa epistola non è stata scritta da Dante ci sono molti dubbi sulla sua autenticità in particolare perché nella spiegazione che viene tentata dei primi versi del paradiso ci sono addirittura degli errori delle cose che non tornano con il testo di Dante e comunque appunto questa definizione per giustificare il titolo molto spiritosamente veniva detto beh sarebbe come se per dare il titolo a un'opera si parlasse del genere a cui appartiene quasi che se a una persona si chiedesse il nome questa rispondesse beh ci sono tante specie di animali io sono un essere umano veramente no io ti ho chiesto il tuo nome il tuo cognome non questo invece se chiamiamo commedia o comedia ovviamente l'opera di Dante apparterebbe a questa categoria generica delle opere comiche senza un vero titolo questi aspetti che appunto passano anche attraverso i sensi della scrittura qui ecco un altro tipo di rappresentazione di Dante questo attraverso un illustratore postmoderno Tom Phillips che ha fornito una visione molto diversa da quella di Doreo da quella di Botticelli e che merita tanta attenzione ci sono state anche delle mostre quest'anno ma ci porta al vero mondo di Dante ecco Dante ha concluso la sua vita a Ravenna e quando si trovava ormai lì da qualche tempo intorno al 1320 un retore di Bologna gli aveva proposto di incoronarlo ricordate il tema dell'incoronazione poetica ma appunto in realtà Dante non accetta perché Giovanni del Virgilio questo è il nome dell'interlocutore aveva disprezzato il suo volgare e gli aveva detto che doveva scrivere in latino dei poemi epici Dante risponde con un egloga in latino questa è un'operazione bellissima fa vedere materialmente che poteva scrivere in latino come quando lo riteneva opportuno ma risponde che se avrà un alloro poetico vedete se l'edera e l'alloro avvolgeranno e stringeranno e saranno strette attorno al suo capo sarà grazie all'ultima cantica al paradiso perché quando sarà nota questa così come come gli infera regna come i regni dell'inferno e del purgatorio allora lui sarà degno di essere incoronato ecco vedete Dante non ha mai abbandonato la sua idea fortissima del volgare quindi della lingua che poi è diventato il nostro italiano come strumento di eccezionale capacità inventiva è lì che lui voleva raggiungere l'effetto più elevato e quindi creare questo mondo altissimo che è il suo paradiso e in questi versi ce lo conferma non era certamente Dante disposto a ripassare al latino o tornare indietro rispetto a questa strada che sentiva sua e che diventa la nostra e questo è diciamo il segno anche della sua personale grande visione di una letteratura che deve andare verso gli altri che diventa in qualche modo parte di un'umanità e prima di tutto naturalmente dell'Italia stessa in questo dialogo che è meno noto ma è autentico Dante ci dice proprio questo la sua opera sarà degna di ricevere dal loro poetico perché parlerà delle cose più elevate nello stile più alto ancora una volta superando il comico subito comunque dopo la morte di Dante che purtroppo non poté divulgare il suo paradiso e furono i figli a farlo assieme a tutta l'opera si cominciò a parlare appunto di questo poema nella sua interezza notate che l'Inferno e il Purgatorio probabilmente diffusi fin dal 1312 1313 quindi otto anni circa prima della morte di Dante non avevano poi bisogno di un titolo perché le cantiche venivano definite Inferno e Purgatorio non c'era un problema il problema si poneva quando l'opera era completa e addirittura uno dei figli Jacopo la diffonde e vuole che sia apprezzata dall'ultimo protettore di Dante Guindo Novello da Polenta Ravenna e la chiama sua sorella la definisce addirittura come un'opera che è consanguinea rispetto a lui però quello che colpisce è che non sa niente di come è nata di come viene definita del perché eventualmente l'avesse chiamata commedia ecco noi ci immaginiamo Dante pronto a parlare magari con i suoi familiari e a diffondere a divulgare le sue idee ma non è così purtroppo Dante in questo non è vicino alla nostra sensibilità e procedeva diciamo autonomamente per cui anche i figli e anche le persone più vicine non sapevano quasi niente per esempio per molto tempo i figli non dimostrano di sapere chi poteva essere Beatrice e si comincia a parlare di commedia perché come capita anche adesso quasi tutti arrivavano a leggere i canti dell'inferno ed era molto più difficile invece arrivare al paradiso e quindi un letterato dell'epoca Francesco da Barberino che comincia a leggere l'inferno e forse il purgatorio parla di commedia trovando quelle definizioni che abbiamo visto ma appunto poi si stupisce della grandiosità di quest'opera perché ancora appunto non ha visto il finale e si aspetta qualche cosa che in qualche modo supererà addirittura Virgilio ecco queste sono fra le primissime e un po' ingenue rappresentazioni di come potevano essere accolti i canti dell'inferno o le prime parti dell'opera di Dante ma come vedete appunto allora su questo titolo noi abbiamo costruito forse interpretazioni e tanto si è discusso ma non è detto affatto che fosse quello che Dante pensava poema sacro già ci darebbe una prospettiva molto diversa rispetto a quella che avrebbe commedia o divina commedia appunto in effetti non sappiamo nemmeno quando Dante ha scritto quest'opera certo l'ha terminata a ridosso della morte ma il suo inizio è molto problematico perché come tutti sapete questo incipit nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita uno dei più celebri della letteratura mondiale ci indica un periodo preciso siamo al 25 di marzo del 1300 attenzione dico 25 marzo mentre spesso nei commenti si legge 8 aprile perché anche gli studi più recenti hanno dimostrato che Dante immagina la sua opera avviata il giorno esatto della crocifissione di Cristo della passione di Cristo che già nell'antichità era fissata appunto per il 25 marzo che però era anche il giorno dell'incarnazione di Cristo e per un fiorentino era il primo giorno dell'anno quindi il viaggio di Dante parte per lui fiorentino nel giorno esatto in cui lui entrava nel 35esimo anno di vita cioè nel mezzo del cammino secondo i calcoli dell'epoca siamo quindi al 25 di marzo del 1300 ma dove siamo? beh siamo in un luogo allegorico la selva oscura non è una vera selva la diritta via indica non una via reale ma l'andare verso Dio Cristo con la via dritta appunto siamo in un ambito non realistico ma allegorico e questo ambito prosegue anche nei canti successivi per esempio appunto il secondo dell'inferno come vedete si parla di diserta piaggia si parla di fiumana sono esattamente la stessa cosa luoghi pericolosi per l'anima dove purtroppo Dante si è smarrito ma creare una geografia o pensare a luoghi reali è impossibile questi sono testi che richiedono una seconda lettura il senso allegorico che avevamo visto prima appunto i cosiddetti quattro sensi che il testo avrebbe ma appunto qui prevale e c'è soltanto quello allegorico ora il problema è che questa partenza è però molto diversa dal Dante che noi abbiamo imparato ad amare se tutto il poema fosse fatto di incontri di belve che poi rappresentano dei peccati di figure anche umane ma che rappresentano per esempio la ragione o la morale nel caso di Virgilio la teologia nel caso di Beatrice beh tutto questo ci riporterebbe a un gusto tipicamente medievale era diffusissimo e a un maestro che Dante conosceva bene Brunetto Latini che era stato per lui l'iniziatore probabilmente alla cultura più elevata e che aveva scritto un testo il tesoretto che era basato esattamente su questa modalità di scrittura l'allegoria a un fine didattico punto però è che Dante non prosegue così Dante va invece verso altri grandi personaggi Francesca Farinata degli Uberti Pier delle Vigne Ugolino della Gerardesca addirittura arriva a ricreare la storia di un personaggio dell'antichità Ulisse di cui non si sapeva come era andato a morire e lui completa le storie antiche guardate quanto Dante osa arriva a completare le storie che per lui per quello che sapeva del mondo greco non avevano mai fatto sapere come era andato a morire Ulisse ed è questo che gli interessa mettere nel suo grande capolavoro però queste non sono allegorie allora cos'è successo ecco un altro dei misteri che ci in qualche modo colpiscono come mai c'è questo cambiamento se Dante ha cominciato a scrivere la sua opera come in molti attualmente pensano intorno al 1307 e ha proseguito poi fino alla morte in realtà c'è una storia che ci racconta ancora Boccaccio e Boccaccio riferisce appunto più volte e addirittura in queste esposizioni che abbiamo citato prima che alcuni testimoni gli avevano detto che in realtà alcuni canti dell'inferno erano stati scritti da Dante prima dell'esilio cioè entro il 1301 e questi canti poi erano stati ritrovati alcuni anni dopo intorno al 1305 al 1306 ed erano stati divulgati perché molto apprezzati e addirittura poi era stato possibile riportarli a Dante mentre si trovava dai signori Malaspina intorno appunto al 1306 1307 questi canti sarebbero stati secondo gli informatori di Boccaccio sette e questo perché nell'ottavo canto dell'inferno si legge io dico seguitando che quindi si interpretava secondo questi interpreti io riprendo a scrivere dopo che per molti anni non ero più stato in grado di scrivere ma un grande scrittore e grande interprete ne abbiamo citati alcuni prima e qui ne citiamo un altro Jorge Luis Borges che ha dedicato a Dante bellissimi saggi nel corso del Novecento commentando il quarto canto dell'inferno quello del limbo quello dove Dante e Virgilio visitano i grandi uomini magnanimi dell'antichità fra cui Virgilio stesso che dovrebbe essere lì con Omero e con tanti altri dice Boccaccio appunto riferisce questa tradizione ma questo può essere vero ma ben più profonda è la differenza tra il canto del castello e i successivi cioè un grandissimo interprete di Dante e un grandissimo autore di testi meravigliosi per la cura stilistica si rende conto che fra il quarto e il quinto canto dell'inferno c'è qualcosa che cambia completamente allora potrebbe essere così beh sì questa è una delle ipotesi che noi studiosi facciamo in questo caso l'ho fatta io di recente la sto tuttora discutendo con tanti altri colleghi naturalmente il bello di queste cose è che nessuno è mai d'accordo ma io insisto su questa interpretazione perché appunto ci spiega una cosa molto interessante in effetti è possibilissimo che Dante abbia scritto i primi quattro canti dell'inferno entro il 1300 1301 perché il 1300 per lui era un anno assolutamente eccezionale entrava nel mezzo del cammino quindi un momento per fare un bilancio ma era anche il decennale della morte della sua Beatrice nel 1290 l'8 di giugno Beatrice era scomparsa e lui aveva promesso alla fine del suo libello dedicato a Beatrice la vita nova di esaltarla in futuro come non era mai stato fatto di nessuna ma non aveva fatto niente anzi era passato a tutt'altri temi aveva seguito la filosofia aveva scritto delle canzoni tremende per una donna Petra che lo respingeva quindi nel 1300 a dieci anni dalla morte poteva benissimo voler tornare da lei e scrivere una visione e un viaggio addirittura ultraterreno che lo portasse fino a lei ma in più era anche l'anno per la prima volta in cui la chiesa chiamava tutti a un pentimento con il giubileo e Dante andò a Roma nel corso del 1300 praticamente ormai accettato da tutti gli studiosi per avere la penitenza e il perdono dei suoi peccati quindi la situazione descritta all'inizio dell'inferno corrisponde esattamente a quanto Dante poteva pensare in quell'anno e in più abbiamo altri segnali per esempio nel primo canto Dante parla del purgatorio ma lo descrive come un luogo dove le anime si purgano nel fuoco color che sono contenti nel fuoco ma questa descrizione non corrisponde affatto a quella del tutto innovativa che Dante ci proporrà dove come sapete il purgatorio è una montagna in mezzo all'oceano e sopra di essa abbiamo l'Eden questa visione completamente originale che Dante propone per la prima volta ed è una sua creazione è una sua grande idea narrativa non corrisponde affatto a quello che viene detto nel primo canto dell'inferno allora è molto probabile che Dante abbia davvero scritto questi quattro canti iniziali che gli informatori non sapessero che erano quattro perché non erano stati loro come invece affermavano a trovare questi canti ma nessuno dei due aveva le caratteristiche per essere davvero mandato a scoprire dei tesori così importanti da Gemma Donati che non è mai nominata da Dante ma era una moglie molto affettuosa e sicuramente molto vicina agli interessi del marito e invece appunto noi sappiamo che per esempio uno dei primi lettori Dino Frescobaldi un grande poeta fiorentino della famosa famiglia dei Guelfi Neri appunto i Frescobaldi cita i primi canti intorno al 1305 in una sua canzone allora l'ipotesi è proprio questa che Dante abbia scritto i primi quattro canti che questi canti così diversi così allegorici così lontani dal gusto successivo siano a lungo rimasti fermi e poi siano stati divulgati e che poi Dante abbia deciso di ricominciare dal quinto ma perché? ecco un altro dei misteri che legherebbe la biografia di cui sappiamo così poco nonostante le tante biografie famose e importanti che ci sono e la sua opera noi sappiamo che Dante scrive una canzone che si chiama Montanina Amor da che convien purché o mi doglia e questa canzone che viene accompagnata poi da una epistola un testo in latino l'epistola quarta è probabilmente del 1307 è il periodo in cui i Guelfi Bianchi per l'ultima volta tentano di rientrare a Firenze dall'esilio e anche questa volta pur essendo condotti da un importante cardinale Napoleone Orsini non ce la fanno allora Dante sa che non rientrerà più a Firenze nel 1307 ormai dispera di poter avere di nuovo la possibilità di tornare dai suoi e scrive questa desolata canzone in cui si dice appunto nel finale che Fiorenza la mia terra fuor di sé mi serra vota d'amore e nuda di pietate vedete che desolazione appunto in questa constatazione di non potere rientrare nella sua città ma nello stesso tempo scrive qui lo vediamo già in traduzione a un signore dei Malaspina che in quel periodo lo stava ospitando in Lunigiana che è stato colpito dall'amore e non riesce a proseguire quello che stava facendo cioè non riesce a continuare la sua opera di poeta filosofo in particolare con quel grande trattato che poi in effetti resta interrotto che noi chiamiamo convivio Dante quindi continuava ancora in quel periodo a seguire una linea diversa ma si interrompe e perché? Perché il libero arbitrio ha impedito a lui di poter esercitare la ragione e la capacità filosofica come è degno di un essere umano l'amore quindi è stato superiore ha trionfato e Dante abbandona gli altri progetti e torna probabilmente alla Divina Commedia e ci torna e qui vedete Blake che ci introduce nel canto quinto dell'Inferno con questi versi sono dei versi famosissimi ma richiedono ancora un po' di commento ancora una volta bisogna indagare dietro diciamo l'apparenza per capirli meglio qui è Francesca che parla Francesca da Polento Francesca da Rimini che come sapete è nel girone dei Lussuriosi perché è stata diciamo traditrice del marito Gianciotto Malatesta e ha commesso un adulterio con il cognato con il fratello di Gianciotto Paolo quando però Dante li incontra non solo nota l'eccezionalità delle due persone che sono unite pur nel vento che travolge tutto pur nella tempesta che non si ferma mai pur in questo luogo terribile per diciamo il vento di passioni appunto che schiaccia e travolge tutto dicevo Dante si appassiona di questa storia e ce la vuole raccontare ma non introduce niente di allegorico non è la lussuria o l'allegoria della lussuria quella che ci viene presentato è una donna quasi contemporanea di Dante di cui anche i commentatori sapevano pochissimo all'epoca quindi non era un fatto particolarmente noto ma sicuramente è avvenuto qualche cosa di terribile presso la corte dei Malatesta e però Dante pone questo personaggio allo stesso livello delle grandi eroine dell'antichità di Done Semiramide fino a Isotta sono queste grandissime donne morte per amore l'antecedente di Francesca ma Francesca non era niente di fronte a questi era un personaggio qualunque certo aveva avuto una fine tragica ma come ce n'erano tante all'epoca Dante qui crea per la prima volta un personaggio di romanzo esce completamente dalla condizione dell'allegoria dell'imitazione di Virgilio dell'epica cristianizzata e ci porta dentro la storia e questa storia ci dice che amor canullo amato amar perdona se l'amore impone che chi è amato riami allora il libero arbitrio non esiste non c'è la possibilità di esercitare il libero arbitrio Francesca afferma qualche cosa che Dante aveva provato su di sé potremmo quindi dire che in parte Francesca e anche Dante ecco perché la sente così vicina ecco perché la sua storia è così importante tanto che alla fine lui cade per l'eccesso di empatia potremmo dire oggi e piomba terra svenuto caddi come corpo morto cade uno dei versi più celebri e più forti di tutta la divina commedia ma perché in un certo senso in Francesca aveva rivelato se stesso aveva capito che l'amore così come lo aveva condotto fino a quel punto lo stava portando verso la distruzione e la perdita delle condizioni fondamentali dell'essere umano ecco questi versi quindi come capite non sono solo famosissimi e belli in sé non ricordano soltanto tanti temi come quello dello stil novo amor calcor gentil ratto s'apprende quindi il cuore nobile che accoglie rapidamente sempre l'amore e ci dicono anche però una cosa terribile appunto che l'amore se vuole ti può imporre di non esercitare più il tuo libero arbitrio ma ci dicono anche appunto che qualche cosa del genere può accadere ed è accaduto nella storia contemporanea non solo nei miti antichi non solo nelle eroine di Virgilio o di tanti poeti dell'antichità ma qui nel testo che Dante sta costruendo è qui che la Divina Commedia diventa il nostro testo è qui che la Divina Commedia diventa per la prima volta qualche cosa in cui ci riconosciamo noi facciamo parte di questa storia in cui Dante incontra personaggi che fanno conoscere tanti aspetti perenni dell'umanità ed è per questo che appunto anche tanti narratori attuali o nel corso del Novecento grandi interpreti come Elliot come Mandelstam come tanti altri che sono stati nominati si sono riconosciuti in Dante i suoi non sono più personaggi allegorici sono personaggi che incarnano le passioni i sentimenti ma anche poi andando avanti perché dobbiamo ricostruire tutta la grandissima narrazione di Dante la volontà di superare il male nel purgatorio la possibilità di guardare verso l'assoluto nel paradiso e questo è un percorso che in qualche modo parte di qui parte da questa constatazione della impossibilità di andare oltre e di cedere addirittura di fronte a un amore travolgente ma alla fine l'amore sarà invece quello divino verso gli uomini e quello degli uomini verso Dio perché appunto l'ultimo verso ed è questo forse l'ultimo mistero che possiamo qui trattare l'amor che muove il sole e le alte stelle spesso viene riferito solo a Dio come se l'amore fosse Dio ma in realtà qui è l'amore del creato verso Dio e Dante è ritornato lì Dante alla fine del suo percorso dopo aver visto il Dio che si è immaginato per la prima volta in forme originalissime torna fra gli uomini e dal creato da dove è tornato assieme a tutti gli altri loda Dio come fa l'amore che muove appunto il sole e tutto l'universo ecco questi aspetti sono appunto quelli che più ci interessano di questi misteri della Divina Commedia sono quelli che in qualche modo ci affascinano tuttora sono quelli che ho cercato di illustrarvi e vi ringrazio per la vostra attenzione sono io e siamo tutti noi a ringraziare Alberto Casadei che non solo ci ha rivelato i misteri della Commedia ma ci ha fatto capire quanti pregiudizi di lettori in fondo abbiamo conservato a lungo sulla Commedia ce l'ha fatta attraversare un po' sovranamente scuotendo così alcune facili certezze insomma o quello che abbiamo creduto tale a scuola quindi lo ringrazio moltissimo chiedo al pubblico se ha qualche ulteriore curiosità da sciogliere oppure se è stato scosso anche nelle sue certezze vuole porre delle domande non so se c'è nella nostra sala virtuale qualcuno che lo vuol fare ecco però adesso come facciamo col microfono ce ne vuole un altro abbiamo un weiteres microfon no io avrei una domanda riguardo i versi astronomici della Divina Commedia perché la mia impressione è che essi non siano affatto secondari come hanno sostenuto certi filosofi crociani eccetera nella Divina Commedia sembra che tutto l'universo e tutto il modo dell'universo dall'inizio alla fine accompagni il viaggio di Dante e non è un puro caso che tutte e tre le canti che finiscono con la parola stelle e non con la parola poniamo poesia umanità o umanità o amore eccetera eccetera quindi io sarei dell'idea che si dovrebbe rivalutare anche questo punto di vista vorrei sapere se è stato già fatto oppure se è in corso oppure semplicemente non ha luogo no sicuramente quello che dice è giustissimo Dante sviluppa un grandissimo racconto su più livelli ed è quello che ci interessa di più cioè Dante è un grandissimo narratore uno di questi livelli è l'inserimento progressivo di tutto il suo testo in uno spazio cosmico sempre più ampio ovviamente nell'inferno ci sono solo riferimenti astronomici ma non è possibile avere un contatto diretto nel purgatorio invece dove appunto la relazione fra il viaggio e l'astronomia e i tempi del giorno o della stagione eccetera sono fondamentali le perifrasi astronomiche aumentano e addirittura nel paradiso Dante prova a giustificare alcuni aspetti ancora irrisolti come per esempio quello delle macchie lunari nel secondo canto della terza cantica appunto o la condizione dell'universo quando ci fu la caduta degli angeli eccetera che lui stesso prova in qualche modo a sistematizzare rispetto a quello che si diceva quindi quello che lei dice è importantissimo ci sono studi specifici fra l'altro anche qui c'è un piccolo dilemma perché chi di voi segue i dibattiti su Dante saprà che molti di questi riferimenti astronomici sono riferiti al cielo del 1301 e quindi alcuni sostengono che in realtà il viaggio avviene nel 1301 e non nel 1300 ma non è così perché il testo ci dice chiaramente che il momento del viaggio è fra il 25 e diciamo i primi giorni di aprile anche se la conclusione non è proprio definita ma di solito si dice una settimana del 1300 ma Dante aveva con sé probabilmente un almanacco quello di profacio giudeo che come hanno già stabilito alcuni grandi studiosi all'inizio del 900 aveva due versioni una relativa al cielo del 1300 e una relativa al cielo del 1301 e purtroppo Dante prese forse quella del 1301 pensando che fosse quella del 1300 questo per dire che anche nel caso di Dante ci sono alle volte degli errori che inevitabilmente anche lui compiva e uno di questi riguarda proprio la condizione astronomica complessiva così dettagliatamente rappresentata c'è qualcun altro che vorrebbe porre una domanda vedo un po' è un po' buio qui quindi si vedono timidamente se tu mi dai una salvietta cerco di dirlo in italiano ma il mio italiano non è perfetto infatti ho due domande la prima è un po' personale lei si dedica tanto a tutta questa ricerca su Dante sulla sua vita come mai è iniziato questa passione per Dante se possibile risponde e la seconda per tutto quello che ho capito io stasera ci sono tanti tanti dettagli come ha detto anche la professoressa che possiamo capire male ci sono qualche malintesi secondo lei secondo le quale sarebbe per noi che leggiamo oggi la divina comedia e speriamo di capirla o interpretarla giusto quale sarebbe il più grande malinteso che facciamo noi oggi si è capito bene grazie grazie anzi sono domande molto interessanti beh Dante diventa progressivamente una passione perché diciamo ci spinge a indagare sui fondamenti di un'opera letteraria al centro della divina commedia Dante si interroga sulla immaginativa siamo nel canto diciassettesimo del purgatorio che gli consente di scrivere tutto quello che sta scrivendo ecco è lui il primo a interrogarsi su come è stato possibile avere questa grandiosa visione che poi per lui era un viaggio vero nell'aldilà e noi dobbiamo cercare in qualche modo di indagare Giovanni Pascoli parlava della necessità di capire la mente di Dante ecco questo sarebbe un obiettivo bellissimo e tutto quello che noi facciamo è di cercare di comprendere meglio come è nata questa opera grandiosa ma come sono nate tutte le sue opere perché come ho detto in realtà è stato innovativo praticamente in tutti i settori che ha praticato la vita nova è già un testo originalissimo il convivio è il primo trattato in volgare di tipo filosofico il de vulgari eloquenzia è un trattato stupendo sulla lingua e sullo stile che si deve applicare nella letteratura quindi anche questo di grandissima originalità ma certo la Divina Commedia ci colpisce proprio perché in qualche modo è grandiosa e riguarda i destini umani di sempre quelli suoi contemporanei ma anche quelli del mondo antico che lui rivisita per esempio andandoci a dire come è morto Ulisse e il nostro destino la nostra realtà che cosa evitare? beh ecco come avete capito dal discorso che ho cercato di fare oggi uno dei rischi è quello di credere che Dante dovesse sempre comunque pensare a un secondo livello di lettura questo lo facevano subito i commentatori del 300 dicevano ah c'è Virgilio Virgilio è la ragione ma come tutti sapete uno dei più grandi critici del 900 è stato Eric Hauerbach che appunto ha già cominciato a far capire che questa idea non era corretta e giusta e che invece la storia che Dante immetteva era importante anzi quasi più importante di queste allegorie ora possiamo fare un ulteriore salto cioè non dobbiamo nemmeno limitarci al solo pensiero che Dante poteva avere sulla sua opera ma dobbiamo vedere quanto lui in qualche modo anticipa delle modalità che in qualche misura sono le nostre nell'episodio di Ulisse per esempio lui alla fine lascia in sospeso che cos'è la montagna bruna per la distanza che viene vista da questo personaggio che poi poi sprofonda senza nemmeno sapere di che cosa si trattava ma quello che appunto i commenti oggi ci fanno perdere ecco il guai che abbiamo è il fatto che Dante sapeva che il lettore dell'epoca non poteva comprendere dove era arrivato perché il purgatorio nel mezzo dell'oceano lo metteva lui addirittura l'ha messo forse pensandoci in corso d'opera all'inizio non era così ecco questa è una tecnica narrativa di una novità e di una diciamo attualità sconvolgente le serie televisive sono fatte così interrompono in un punto drammaticissimo e riprendono poi spiegando dopo che cosa è successo e questo Dante lo fa perché sa che il suo racconto è fondamentale ecco noi adesso possiamo capire che Dante è davvero uno dei primi grandi narratori per certi aspetti vicini a noi e questo ce lo rende molto più vicino per esempio dei testi allegorici che circolavano più o meno negli stessi anni perché lui ha bisogno di fare un racconto che di per sé sia coinvolgente sia esatto dia il senso di quello che sta accadendo ed è quello che poi i grandi romanzieri ancora oggi devono fare ecco quindi l'errore che penso sia di evitare è quello di credere che per applicare delle categorie antiche facciamo un favore a Dante invece in un certo senso lo perdiamo ancora qualche potrebbe pensare si potrebbe ritenere che Dante che è tante cose un filosofo eccetera sia al di sopra di tutto un poeta e il suo linguaggio con le sue intuizioni che appunto possono rimanere anche aperte diciamo è quello è il linguaggio poetico questo al di sopra di tutto si può ritenere questo beh se per poesia intendiamo una costruzione che in versi ci dà poi un grandioso racconto come appunto fa Dante senz'altro Dante è nella Divina Commedia soprattutto questo un grandissimo narratore in versi e le sue terzine il testo che appunto lui ha elaborato è fondamentale se noi avessimo lo stesso testo in prosa l'effetto sarebbe completamente diverso perché la realizzazione della terzina è fondamentale per rendere il senso profondo che Dante vuole dare di questo viaggio grandioso alcuni dei versi più belli della Divina Commedia sono nel paradiso e spesso purtroppo non si leggono perché sono considerati difficili perché nelle scuole italiane in particolare non si leggono con attenzione ma quando lui per esempio dice dal centro al cerchio e si dal cerchio al centro muovesi l'acqua in un ritondo vaso secondo che è percosso fuori o dentro ecco ci sta facendo in poesia un piccolo trattato di fisica rende assoluto quello che è un fatto abbastanza banale il fatto che se si colpisce l'acqua dentro un recipiente poi si formano dei cerchi è un fenomeno molto semplice ma così come ce lo descrive con i suoi versi diventa qualcosa di assoluto quindi quello che lei dice è giustissimo perché la poesia riesce a rendere in Dante eterna sia la fisica sia la storia sia la metafisica perché anche questo noi spesso non lo consideriamo l'Empireo cioè la parte finale del Paradiso è per Dante uno sforzo grandioso di immaginarsi qualcosa che nemmeno i teologi all'epoca avevano osato descrivere come si sta nell'Empireo non era qualcosa che veniva detto si sapeva che ci doveva essere questo luogo bellissimo ma in genere era una città fortificata con Dio al centro ecco Dante si immagina cosa vuol dire entrare nell'Empireo e si immagina un luogo dove lo spazio e il tempo non ci sono più dove la luce crea dei luoghi e dentro però ci sono le anime e dentro tutto questo nella profondità più assoluta c'è Dio stesso e lui vuole avvicinarsi tutto questo lo può fare in poesia per esempio quando descrive questi stessi luoghi nel convivio è molto più semplice è un trattato filosofico in prosa li descrive li enuncia dice c'è questo ma non riesce a farcelo immaginare quando li deve invece far immaginare alla fine della terza cantica ecco si inventa questo luogo che è diversissimo da tutto il resto della realtà e questo lo fa perché appunto usa la poesia qui secondo me si potrebbe anche continuare a lungo adesso non so se non vedo ancora non vedo altre altre mani forse possiamo eccolo qua avrei un'altra domanda io ho letto alcuni libri in cui si parla di una struttura numerologica della Divina Commedia cioè che numero preciso diversi esistono delle corrispondenze dei vari temi dei vari personaggi eccetera e vorrei sapere se questo è pure semplice esoterismo oppure c'è qualcosa di serio sotto ecco qui entriamo nei misteri diciamo che piacevano molto nell'ottocento perché effettivamente è vero che Dante usa basi numeriche come all'epoca era molto frequente e in particolare come molti di voi ricorderanno ha usato la base del nove per costruire la vita nuova probabilmente c'era una base realistica cioè è vero ed è possibile che il nove tornasse nel suo rapporto con Beatrice più di una volta però poi lui diciamo usa molte volte queste ricorrenze e quindi chiaramente aggiunge e perfeziona all'interno della Divina Commedia la base è ovviamente il tre perché è il numero della Trinità è la base diciamo della perfezione in senso cristiano e ci sono ovviamente molte costruzioni che in qualche modo ricordano questa struttura triadica all'interno dei canti e all'interno delle tre cantiche però le simmetrie effettive alle volte sono state esagerate nel senso che proprio perché molti ritenevano che Dante lavorasse solo in senso allegorico e simbolico allora si pensava che ci dovessero essere molte più simmetrie e numerologie nascoste di quelle che in effetti ci sono questo nell'ottocento è stato fatto prima da studiosi inglese come i Rossetti poi dallo stesso Pasquoli in Italia che invece puntava molto sul numero 7 e poi da tanti altri anche fino ai nostri giorni qui però bisogna fare attenzione Dante non era un esoterista diciamo non voleva arrivare a questi livelli di oscurità diciamo simbolica Dante era fondamentalmente un aristotelico aveva basato la sua formazione filosofica sui commenti come quello di Alberto Magno di San Tommaso e di tanti altri aveva una mentalità se vogliamo più scientifica che non esoterica e quindi usava questi strumenti per esempio nel finale del Purgatorio li usa moltissimo perché deve esaltare Enrico VII e sperare che sia lui il 500 10 e 5 il Dux che combatterà e vincerà e purtroppo anche in quel caso è stato sfortunato ma appunto molte altre simmetrie invece sono inventate un po' dai critici certo ce ne sono e una ecco la voglio sottolineare perché anche questa è interessante l'ultimo canto è di 145 versi i primi 45 sono come una sorta di introduzione gli ultimi 100 sono l'avvicinamento a Dio questo secondo me non è casuale lui ha voluto mettere in 100 versi all'interno dei 100 canti la visione più eccezionale che lo riguardava quello che lo porta fino a Dio e questo ecco questo si è probabilmente voluto con ambiti numerici molto precisi io a questo punto chiuderei anche per non abusare troppo della pazienza e della scienza anche di Alberto Casadei ma vi invito anche a partecipare domani a questa occasione di tornare su Dante di tornare su Dante introdotti di nuovo da Alberto Casadei ma di tornare su Dante con due scrittori italiani che di Dante che hanno rifrequentato Dante che sarà molto interessante credo ascoltare domani e sono Edoardo Albinati e Giorgio Lupo in una bellissima antologia che si chiama se tu segui la stella non puoi fallire già un titolo meraviglioso i grandi scrittori raccontano il loro Dante il sottotitolo quindi vi invito domani a questo incontro anche che si tiene nella Anderstrasse nella sede della Deutsche Italienische Vereinigung arrivederci grazie a tutti e a tutti e grazie Alberto Casadei e a e a tutta anche alla regia arrivederci grazie a tutti